le crybabies si sono ristrette parte 2 ho visto un bellissimo unicorno con ali di farfalla aiuta bisogna di aiuto che succede stavo provando il super telescopio con wandy quando sono arrivate quali lisi e daisy la regina del pop è arrivata una tempesta ma alla fine non ha piovuto ed è stato divertente fino a quando flop daisy è sparita ma è impossibile sono entrata in casa per vedere se era lì e quando sono uscita di nuovo flip flop anche wendy e lisi erano sparite e dove sono andate uff per un pelo grazie jelly ehi ho un'idea loro possono portarci dalle fantasy siamo salve daisy forza bebè montate ma questa non è la strada giusta dove andate ehi bebè guardate cosa ho trovato vediamo vediamo è la borsa di daisy ma che piccolina odore di bruciato qui dice che è molto pericoloso usarli in giorni di pioggia un fulmine potrebbe ridurre qualunque cosa nelle vicinanze alla dimensione di una lenticchia fulmine credo proprio che i bebè si siano ristretti oh no ora come facciamo a trovarle per fortuna sono sempre previdente che spavento userò i miei superpoteri per entrare nella mente di wendy oh che strano vedo tutto nero guardate bebè ma certo saliamo sull'albero dall'alto potremmo avvisare qualche bebè che belle mele la marmellata sarà deliziosa marmellata ora che sappiamo che sono piccole dobbiamo solo trovarle invertire il processo un fulmine entrerà da qui e uscirà da lì investendo i loro corpicini e così torneranno normali nessi puoi usare i tuoi superpoteri e far scendere un fulmine dal cielo ma certo io posso cambiare il clima questa marmellata sarà fantastica vedi il rubinetto grace non serve riempirlo completamente poi portiamo la marmellata crei gemma al quartiere alato sì che bella idea è stata tutta colpa mia non dovevo toccare il telescopio no la colpa è stata mia per non aver ritirato in tempo il telescopio sono io la colpevole avevo l'incarico di prendermi cura di te tranquilli bebè andrà tutto bene ciao ragazze volete un crostino con la cry gem avete perso il ciuccio fate attenzione potreste schiacciare le bebè la marmellata non esce qualcosa sta bloccando il rubinetto vediamo siamo qui è piena di animaletti che parlano le abbiamo trovate bebè eccovi qui ok bebè siete pronte bene procedi ecco un bel fulmine siamo ritornate normali ecco un bel fulmine ecco un bel fulmine Luck is on your side, if you trust yourself